È fondamentale, come dicevo prima, dobbiamo completamente cambiare il nostro modello economico. Bisogna passare a un'economia circolare, bisogna avere un'economia veramente sostenibile e credere fortemente nelle energie rinnovabili, nelle energie verdi che permetteranno finalmente una resilienza e un'indipendenza soprattutto dalle fonti fossili. Purtroppo però sappiamo molto bene che queste conferenze spesso si sono tradotte in degli ottimi che non hanno trovato una concretizzazione vera e reale nella pratica in un vero e proprio trattato che porti a delle posizioni vincolanti per le parti contraenti. Speriamo che non sia l'ennesimo buco dell'acqua anche perché un'emergenza come quella dei migranti ma anche il cambiamento climatico, la progressiva desertificazione e la vera e propria lotta per l'accaparramento di terra e acqua in Africa ci impongono di prendere una decisione e di prendere una decisione ferma. Se l'Europa non si fa paladina di queste battaglie è un'Europa che tradisce e nega gli stessi valori sui quali si è fondata.